Anzi chiede un pittà, mi dà sicuro chi ci fa fare Ma il tutto non può rientrare No, quello è spulso già no Che non giocava dall'inizio che voleva capire Ma gli stai a Meghimi No, si, 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 è così Come dici tu Si, ma non è lui, non può rientrare il giocatore spulso Loro erano in 5 Si, l'altro può entrare dopo 2 minuti Dopo che sono normali no? No, già sono normali Quattro sono È entrato Marino, quello che era infortunato Si è andò a cambiare e sta giocando Perché Federico Si è un Federico sbadato Stai dicendo pazzo vicino Questo si sentirà nel video Ah, vabbè Ah, vabbè Ah, vabbè Ah, vabbè Ci vuole la calda, non c'è la cosa Ci vuole giocare così Ma le ci vuole la persona così Ah, non è ci vuole la calda Ci vuole la calda Noi, non c'è la calda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.